a ciao ambelli siamo nella meta foresta da una foresta andiamo subito da qui aiutavo scout a guadagnare i suoi team boy scout com'era la cosa di uno scout? sembra una ruta così ok oh la bazzucca si vuole aiutavo a guadagnare il suo distintivo di merito prima dai un'altrezza per scolpire il pezzo di legno mazzola subito mazzola no scalpello 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 ha fatto un totem ma nel frattempo aspetta la pressione dagli incendi e alla successiva è stata una cosa per spegnere il manichino ma non fa questo ma non fa questo no elimina elimina lo prendiamo dopo lo prendiamo dopo lo sto ammazzando a che lo prendiamo dopo dopo lo prendiamo la roba visto che ci siamo ricordati di molte ma non ci credo vai mi è incazzato mi è incazzato mi è incazzato mi è incazzato dai qualcosa allo scatto e riguarda il manichino ehm che canno ma si no e sta porco in merda brenda genio del male non è non è non è non è non è non è armatura armatura a un toro ma però non se ne è messo vabbè wow bam che mina di merda fai schifo proprio mamma mia c'è il cantono che gli trovo l'andale è cantono la situazione meteorologica mi ha ciaccato oh ragazzi come sempre anche voi da casa siete pronti? prima che muoio oddio ok 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 dito ciò motleres motleres soli motleres ok no devi mettere devi poterlo cavalcare devi poterlo cavalcare quindi devi fare lancia fiappe no devi fare cavall clicca su di lui clicca su di lui clicca clicca su di lui ok yeah motleres nuove infiamanti avventure vieni dietro allora sì bimbo vieni qua bimbo no motleres questi insetti non finisco più aiutami a tenerli a distanza no siamo 25 toh mangia no no ed è che va aspetta eh musica più veloce mica l'anno aiutare sappiamo cosa cosa a te va pinta non è confortevole dormire qui c'è crea qualcosa di meglio per l'espulsione che si sta invece di via e inflex eh no non viene non fa pubblicità punta è divertente te te vabbè poi sotto a chi tocca il cuoco masterchef dimmi te so il mio alfalto non è così buono per trovare tartufi cane cane no cane ma non è solo no poi sono da lui da dar no è solo eh è ma che ha fatto m vediamo se face poco cattacoglia voi si tome lei lei è la salve seleniti mi sa che questa è una un'altra scelta mi toglierà del altro come non lo fa dormi fa la menti che dorme ahah è stato bene ahahahahah è stato si muri è crevato ok sega come si chiama Asher eh ma qua qua faccio soltanto il mio lavoro bambine fammi vedere qualcosa che è il tuo ragazzo salatizia salve signora tizia che vola credo aver trovato la tavola in bigfoot ma non mi intero per provarlo bella macchina eucatica foto graffita top bigfoot ciao bigfoot bigfoot aspetta non ti muovi di foot no non capite bigfoot no vabbè due cani se potessi allevare un cucciolo umano mogli bambino bambino bambina esce vabbè magari e sono diventati i maya gli aztechi che cazzo va bene abbiamo anche i berni qua perchè crocca aiutaci a finire questa casa sull'albero no 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 scusa 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 non volevo non volevo perdone non mi ha tolto lo sarai vero non mi ha tolto lo sarai vero non mi ha tolto lo sarai vero che culo ehm non l'ho fatto apposta io giuro che non l'ho fatto apposta meno male mi sono stato a fare il calcio all'angolo ma nonno mi sono stato a fare il calcio all'angolo si si è buttato giù come faccio? no devi il caverù cos'è? si è fatta puta vedi che giù ma c'è stato l'ultimo si no 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 l'albero è visto in dai per te l'impolina dell'albero oddio mio api 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 il problema non ti piace ok finalmente insomma tutto livello completato mondo 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 guardate le parco di salivano c'è un moltres aspetta aspetta si oddio guarda l'apras non ti piace 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 ho perso il mio pterodattilo che ho puoi ritrovarmelo prima non ho visto arrivo a scusa adesso mi viene un uomo vieni qua mamma una ma che la mia oh cazzo oh cazzo oh santo il cric aiuto fai qualcosa affinché lo pterodattimo mi lasci andare dai niente non lo uccidere no è un genio è un genio di male è un genio di male oh guardi il cespuglio è cespuglioso oh cazzo cazzo la lingua oh aspetta un tour vieni più vicino per attivarmi no è lo starlight facciamo un lancio studio è molto esistente dai ai rapaci una fretta da catturare un bel tovolo è bella non ho fatto andare è razza è intelligente però poi cos'era quello stasme chi intenzione no ormai sta con noi vieni trovi a cattura l'annosauro fuggito sono due piccoli coccodrine tono rancotanko tutto piccolo di un annosauro un annosauro reale un carattere topo oh su detective un dinosauro il fuggito crea qualcuno che possa aiutare a trovarlo un ricercatore no no dinosaurologo come si dice sauro non esiste infatti esattamente no come si chiama quello di fossili? indiana joe fuck indiana joe joe indigena indigena vai indigena vai indigena joe no 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 aspetta com'era aspetta 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 vai a scerlo comsi ah grande detective dei dinosauri il cacciatore non trova alcuna traccia del dinosaurio tagliostamente per aiutarlo a trovare il dinosaurio lente di ingrandimento e per il crichet si si e no io sto parlando per quello che sto lamentando ah questo non funziona dove sarà mai l'allosauro? non lo so mi sembra un po' della respiratrice dove racco? dove racco? ci sei dentro coccuno il cacciatore ha intenzione di mettere in gatto il dinosaurio metti qualcosa nella carne per attirarlo cibo 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 carne carmen carmen stai mettendo carmen nella vai funziona? ah fuga che l'allosauro non ti mangia si prova a non scappare a me buona a meno ti che a meno un carno manco lei lei è andata il frattempo eh sì ma fate svenuto da me no fa la morta il dinosaurio ha ignorato l'esca e ora il cacciatore nei guai dai guardiano dello zoo qualcosa per attirare attenzione del dinosaurio carne sembra carne ancora? proviamo è ancora carnetto ma ha ignorato la carnetto ah prima prima la ignora mi sembra molto stanco da aver corso un frattempo trovo un modo per farlo addormentare dormi ormai stiamo specializzando in dormi aspetta guarda a me ok ma si lo posso aumentare addio che stiamo al punto di riparo coccate te no coccate coccate oddio santa quel bambino sarà male quel bambino sarà male quel bambino sarà così via attenzione ragazzi come sempre prontissimi vi voglio carichi non c'è la testa non c'è la testa non c'è la testa non ci c'è la testa no c'è la testa c'è la testa fondi qui è la testa come sempre il video vi vi piaciuto mettete mi piace commentate condividete io so fare attroci non lo devo fare se proprio mi è piaciuto tanto mi è piaciuto anche il nostro molto se i dinosauri la carne Gennaro non mi sta dunque che compare qua quindi ragazzi vediamo al posto di scrittura io la testa mi giro sto purendo tutto pallini pallosi pallette